Volevo condividere con voi giusto qualche minuto di riflessione per la notizia che riguarda il calcio scozzese, in particolare l'Aberdyn, il modo in cui è stato esonerato Jim Goodwin, perché vediamo un attimo proprio prendendo le parole del sito ufficiale dell'Aberdyn, cosa dice. In pratica viene esonerato Goodwin, però il modo in cui viene esonerato è particolare perché io non ho mai visto questo modo di esonerare un allenatore, cioè una riga e mezza, potete vedere, in cui viene detto che in seguito all'inaccettabile, quindi in proprio inaccettabile è stato usato questo aggettivo, serie di risultati maturati dopo la pausa per la Coppa del Mondo, il club ha confermato di voler risolvere con effetti in media del contratto con Jim Goodwin e affidare la squadra all'E-Sharp. Ora, non è che mi... ne abbiamo parlato pure nell'ultima puntata di Uke Calcio Show, vi metto il link qui in descrizione così potete rivedervi la puntata, ma la posizione di Goodwin era già molto complicata. In seguito alla sconfitta storica in Scottish FA Cup contro il Darvell è stato proprio la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Certo che però fa molto riflettere il modo in cui è stato esonerato, cioè con l'utilizzo di questo aggettivo inaccettabile, anche se in effetti non ci sono altri modi per spiegare questa situazione dell'Uberdin, e allo stesso tempo fa riflettere come solo qualche mese fa l'Uberdin era in una situazione di classifica completamente differente, e anzi doveva essere il vero e proprio terzo polo del calcio scozzese. Come cambiano le cose? E cambiano a tal punto da vedere rovinare i rapporti tra un allenatore e una società che si lasciano in malo modo, anche perché vi ricordo che la sconfitta dell'Uberdin in Scottish FA Cup è un qualcosa di incredibile, cioè quello che ha fatto il Darvell è veramente eccezionale, anche perché tutta la stampa, la stampa inglese, scozzese del Regno Unito, ma adesso poi è una notizia chiaramente riportata da tutti i quotidiani sportivi del mondo, hanno ancora una volta sottolineato il fatto che questa è una delle sconfitte, dei risultati più clamorosi della storia di questa competizione, ma io penso in generale di tutte le competizioni, quindi di calcio, perché una squadra del sesto livello che elimina una del primo livello, poi titolata come l'Uberdin, fa davvero rumore. Certo, Goodwin verrà ricordato soprattutto per questo motivo, e forse dovrebbe anche imparare un po' più di umiltà, perché nei mesi scorsi si era lanciato in previsioni abbastanza azzardate, ricordo bene come voleva dimostrare la qualità della sua squadra, la sua qualità e poi quella della squadra contro i Rangers, quasi mirando al Celtic e al titolo, e poi guardate come è andata a finire, insomma. Però ricordiamoci che questa è la prima volta, almeno per quanto mi riguarda, che leggo di una società che definisce inaccettabile il risultato del proprio allenatore, quindi lo esonare in questo malo modo. C'è da riflettere su questo.